Ho visto per 60 anni coppie da tutto il mondo, da tutti i continenti, da tutte le galassie, da tutto il sistema solare conosciuto e sconosciuto a venire a farsi i trombai a Venezia. E mi... In 60 anni con una veneziana non ho mai buon niente che fai. Non ho mai buon niente, non ho mai buon niente, non ho mai buon niente. Niente a me ne rotto, qualcosa che vimbo nel rosto, me ne rotto. Scatola me col dedito. Questa è la mia vita nobile. Dimmi, cosa vai a dirti? Se vuoi inari. Il governo adesso. Dove? Vediamo sto baccanando a far una baccanata. Siamo qua, questo è il posto, questo è il posto, di me, siamo al posto tutti. Buonasera, grazie, ciao. Allora, il Benarostos è una serie che abbiamo fatto su internet che toglie in silo tutti i programmi di Cusina che ti vedi in televisione. Ma sei che ho visto. Ti vedi ora che l'ho visto. Possiamo farci una foto insieme? 20 euro. Va bene, ti stiamo già immortalando in un video. Diventerai una personazza internazionale. Ciao Fiori, mi sono un Benarostos. E so, bravo a far da maniare come degli altri. 83, sono di sopra. Te l'ho detto, non so che faccio la maniare. Io non ti ho sa, ma mi sono un Benarostos. Che aiutante che costa a sera, eh? Io sono un Benarostos, campione mondiale di Senni. Vai che roba. Dico, fatti mie. È fritturezza. Sì, dico, fatti mie. Salza. Visto che è politica, che è invaso tutto, mi invado è politica. Qua è musica, qua è musica. E se posso, lo capo è senso. Quello sarà un più difficile. Però, non si sa mai. Se ne ha la guarda che so. Quindi, genere umano, i vostri morti, deve una calmata. Fate l'amore, non fate la guarda. Se 50 anni, chi vi ho dice? E non va bene capire un cazzo. E non va bene capire. Ciao. Ciao. Viene rotto, vai che prisa ho da patatine, viene rotto, ma prima t'acquodo cartine, viene rotto, adesso passo un buon risotto, viene rotto, aspetta che prima scaldo il tocco, viene rotto, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.